24 ore lunghe di lavoro per i poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta e per i carabinieri. E mentre i poliziotti hanno arrestato un uomo, un 27enne di Caltanissetta, che deteneva la cocaina all'interno di un frullatore nella sua abitazione, 126 grammi il peso della sostanza stupefacente che è stata trovata, l'uomo è stato arrestato e portato al carcere Sant'Elia, i carabinieri hanno arrestato tre extracomunitari, due uomini e una donna, hanno trovato all'interno della loro abitazione in via Magri, 12 involucri di cocaina, 15 grammi in tutto per 1600 euro. I due uomini sono stati arrestati e portati al carcere Malaspina di Caltanissetta, la donna invece nelle carcere di Agrigento.